Buongiorno, oggi andiamo a studiare i diagrammi vettoriali del seguente filtro passabasso di tipo LR. Quindi andiamo a vedere cosa succede al diagramma vettoriale quando la frequenza è uguale alla frequenza di taglio, quando la frequenza è molto minore o molto maggiore. Per prima cosa quindi andiamo a calcolare la frequenza di taglio. Quindi la frequenza di taglio di questo tipo di filtro è linea di frazione, al numeratore il valore della resistenza, R, fratto 2π per L. andiamo a sostituire i valori, quindi avremo linea di frazione al numeratore 1 per 10 alla 3 al denominatore 6,28, approssimando il 2π per 2 per 10 alla meno 3. Andiamo a svolgere, quindi faremo 1 diviso 6,28 per 2 e mi viene circa 0,08 per 10 alla 6, 10 alla 3 e 10 alla meno 3 portato di sopra diventa 10 alla 3 e quindi abbiamo questo, quindi andiamo ad approssimare a 80 kHz circa 80 kHz Ok, a questo punto andiamo a vedere cos'è la ZTOT quindi la ZTOT sappiamo essere ZL più ZR e quindi sarà in questo caso metto prima, allora facciamo, mettiamo prima la parte la riscrivo così in modo da avere prima la parte reale e poi la parte immaginaria quindi 1000 più J e qua andremo a mettere al momento ω ovviamente questa varierà in funzione del valore della frequenza e poi 2 per 10 alla meno 3 alla frequenza di taglio per definizione sappiamo che la ZTOT sarà 1000 più J1000 quindi il valore della reattanza induttiva è uguale al valore della resistenza e in questo caso il diagramma vettoriale sarà qua abbiamo la WIN che suppongo sempre con sfasamento nullo quindi WIN che è 40 posizionata qua poi l'impedenza è di tipo l'impedenza totale è di tipo ohmico induttivo quindi ohmico induttivo vuol dire che la corrente è in ritardo e in questo caso appunto essendo la frequenza di taglio di 45 gradi quindi più o meno qua quindi qua avremo così e qua abbiamo 45 gradi 45 gradi e la tensione di uscita essendo presa sulla resistenza sarà in fase con la ITOT e quindi avremo la nostra WOUT che è più piccola di WIN più corta di WIN ma più lunga di IOT quindi WOUT ok poi quindi questo è il diagramma vettoriale per la frequenza di taglio con la frequenza uguale alla frequenza di taglio quando invece quando F è molto minore di FT ad esempio prendiamo il caso F uguale FT fratto 10 e quindi 8 kHz avremo che allora la parte allora quando andiamo a diminuire la frequenza diminuiamo di un fattore 10 anche questa parte qua cioè la reattanza induttiva che è direttamente proporzionale quindi in questo caso avremo che la ZTOT diventerà 1000 più J 100 se prima era 1000 abbassata di un fattore 10 e quindi avremo che ZTOT è circa uguale a 1000 trascurando XL trascurabile quindi possiamo andare a trascurare questo valore che è molto più piccolo e praticamente la nostra ZTOT diventerà puramente omica in questo caso il diagramma vettoriale sarà così abbiamo sempre VIN poi siccome è puramente omico avremo la ZTOT in fase con la VIN e poi avremo la VOUT presa sempre sulla resistenza anch'essa qua quindi qua abbiamo praticamente tra VIN e VOUT uno sfasamento allora questa VOUT VOUT e qua abbiamo uno sfasamento di 0 gradi invece quando quando F è molto maggiore di FT ad esempio F uguale a 10 volte FT e quindi 800 KHz avremo avremo il contrario cioè che ZTOT sarà sempre 1000 in questo caso più Jai 10.000 e quindi in questo caso avremo che questa risulta trascurabile rispetto quindi qua abbiamo R trascurabile e quindi abbiamo praticamente una ZTOT puramente induttiva quindi puramente induttiva avremo un diagramma vettoriale dove qua abbiamo sempre la nostra win poi puramente induttiva abbiamo la corrente in ritardo di 90 gradi 90 i tot e qua 90 e la Vout presa sulla resistenza e quindi in fase con la corrente quindi sarà sempre qua un po' più lunga della di tot e più corta della win vout ok poi volendo posso andare a quantificare i valori di tot e vout andando a calcolare il fasore della ZTOT e con le coordinate polari e quindi andare a fare la legge di Ohm per il regime sinusoidale bene con questo ho concluso l'esercizio se vi è stato d'aiuto e vi è piaciuto mettete un mi piace iscrivetevi al canale ci vediamo domani per un prossimo esercizio un'esercizio 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 un'esercizio